Pembroke Vesh Korgi nei film. Pembroke Vesh Korgi è apparso in film come. Spencer. 2021. Fine, inizio. 2019. Il Korgi della Regina. 2019. Portlandia. 2011. Casa Rotta. 2021. Gli standard di razza, possono cambiare nel tempo. Sia gli standard di aspetto che gli standard riguardanti il carattere, o le qualità lavorative della razza possono cambiare. Le opere artistiche dei primi anni raffigurano i rappresentanti più tipici delle razze di quel tempo. Confrontandolo con l'aspetto moderno della razza si può apprezzare quanto la razza sia cambiata nel tempo. Interessanti sono anche le fotografie d'archivio di razze specifiche, che puoi trovare su internet nei forum specializzati sulla razza. Informazioni storiche sulla razza e sui sottogruppi. I Pembroke Vesh Korgi sono parenti stretti del cardigan Vesh Korgi, condividendo gli stessi antenati. I Pembroke si distinguono, prima di tutto, per il loro corpo leggero ed aggraziato, nonché per alcuni tratti caratteriali. Sono più eccitabili e irrequieti dei loro parenti, ma sono altrettanto buoni come cani da compagnia e da guardia. Gli svantaggi includono la tendenza all'eccesso di cibo, e alle malattie degli occhi, come il glaucoma. La razza è originaria del Galles, dove è diventato uno dei primi cani da pastore. Il Vesh Korgi si diffuse ampiamente nel XX secolo. La base per l'allevamento della razza, era probabilmente il Vallun svedese o il cane islandese. Secondo una delle leggende, che spiegano l'aspetto di questi cani, i cuccioli venivano regalati alle persone dalle fate, che usavano la razza come cani da slitta. È così che i sostenitori della versione, spiegano il segno a forma di sella sul dorso del Pembroke Vesh Korgi. Secondo un'altra leggenda gallese, due cuccioli seduti su un albero caduto nella foresta, furono trovati da bambini contadini e portati a casa. I Korgi gallesi appartengono alla famiglia dei pastori, sebbene siano piuttosto in miniatura. La loro bassa statura consente loro di schivare abilmente zoccoli e corna durante il lavoro di pastorizia. Sebbene i cani si rivelassero piuttosto attraenti dal punto di vista degli allevatori, per molto tempo rimasero sconosciuti a una vasta cerchia. Fu solo nel 1892 che i Korgi pressero parte per la prima volta ad una mostra dove furono notati. Quindi la razza si sviluppò rapidamente, e si diffuse rapidamente in tutto il mondo. I cani divennero famosi perché nel 1933, il duca di York, il futuro re di Gran Bretagna, Giorgio VI, diede dei cuccioli di Vesh Korgi alle sue figlie Elisabetta, ora Elisabetta II, e Margare Trose. Il Pembroche Vesh Korgi è un cane di piccola taglia, alto circa 30 cm e pesante fino a 14 kg. Esistono due tipi principali di Vesh Korgis, Pembroche e Cardigan, che differiscono in modo significativo l'uno dall'altro. Ad esempio, il Pembroche è leggermente più piccolo, e queste specie hanno anche forme della testa e struttura degli arti toracici diverse. Le zampe del Cardigan, sono leggermente più lunghe, si distinguono per una posizione specifica degli arti anteriori, che ripete la forma del petto, che le rende più manovrabili quando si lavora con il bestiame. Petto ampio, testa nobile e schiena dritta e forte. Personificano forza e nobiltà, potere ed efficienza. Il Pembroche rosso e bianco ha un mantello dorato e brillante e macchie bianche sul viso, sul petto e sulle zampe. I Pembroche sono disponibili anche in tricolore nero. Il muso è più simile a quello di una volpe. A causa del contorno contrastante della bocca, molte persone pensano che Pembroche stia sorridendo. Gli occhi sono marroni. Bel corpo forte, zampe forti e corte con angoli ben definiti. Si ritiene che i Pembroche si distinguono dai cardigan per l'assenza di coda, ma questo è un errore. I Pembroche non nascono sempre con la coda corta, a volte la loro coda è tagliata. Dalla fine degli anni Ottanta, quando alcuni paesi hanno introdotto divieti di attracco, sono comparsi sempre più Pembroche dalla coda, rendendoli più simili a volpi. Il loro sottopelo è corto, resistente all'umidità, il pelo ha all'incirca la stessa lunghezza di quello di un pastore, setoso al tatto, e di magnifica lucentezza. Il colore di questi cani può essere rosso e bianco, tricolore, nero, fulgo, la colorazione tigrata è comune tra i cardigan. Esistono regole rigorosamente stabilite per il colore del loro mantello, non esistono corgi gallesi bianchi. Negli ultimi anni, a causa della crescente popolarità della razza, è aumentato il numero di accoppiamenti commerciali, e di allevatori senza scrupoli, il che ha portato ad una diminuzione della qualità del bestiame. C'è anche una tendenza verso un aumento di dimensioni e peso, soprattutto tra i maschi. In tali cani, a causa dell'aumento della massa del torace, e della testa con le gambe invariabilmente corte, la mobilità diminuisce, la produttività dei movimenti si deteriora, le qualità lavorative diminuiscono, e possono sorgere anche problemi di salute. Il Pembroke Velskorgi è molto legato alla famiglia umana in cui vive. Alcune razze sono fortemente attaccate a una persona, altre a tutti i membri della famiglia umana, altre possono avere un atteggiamento amichevole verso tutte le persone in generale, altre ancora potrebbero non avere legami stretti nemmeno con il proprietario. Il Pembroke Velskorgi ha un forte legame con tutti i membri della famiglia umana. Sono anche abbastanza contenti con gli estrani. L'atteggiamento di qualsiasi cane nei confronti delle persone che non gli sono familiari dipende fortemente dalla razza dell'animale, ma questo atteggiamento dipende ancora più fortemente dall'educazione e dalla socializzazione di un particolare individuo, e la socializzazione nella prima infanzia dell'animale è particolarmente importante a questo proposito. Il Pembroke Velskorgi va molto d'accordo con i bambini. Tuttavia, indipendentemente da quanto un cane sia amichevole nei confronti dei bambini, non dovresti lasciare un cane di qualsiasi razza da solo con bambini piccoli. Alcune razze di cani, sono più rilassate riguardo al comportamento dei bambini piccoli, e potrebbero non prestare attenzione ad alcune delle buffonate dei bambini, ma vale la pena capire che i cani di tutte le razze, non importa quanto amichevoli possano essere, dovrebbero stare con i bambini solo sotto la supervisione del proprietario o degli adulti, perché oltre alle qualità della razza in relazione ai bambini, ci sono anche le caratteristiche individuali di ogni cane, la sua educazione, e la precedente esperienza nella comunicazione con i bambini. Queste relazioni sono anche significativamente influenzate dal comportamento dei bambini. Ma il Pembroke Veshcorgi non vuole comunicare con gli altri cani, ed è generalmente neutrale nei loro confronti. Diverse razze di cani, hanno atteggiamenti diversi nei confronti dei propri simili, alcuni cani giocheranno e interagiranno in ogni modo possibile con i cani che incontrano o con cui vivono, altre razze potrebbero tentare di dominare o addirittura attaccare animali simili a quattro zampe. Allo stesso tempo, la relazione tra cani, può essere molto diversa da come il cane reagisce alle persone. Il comportamento di un cane nei confronti degli altri cani, e delle persone, dipende non solo dalla razza, ma anche dalla socializzazione dell'individuo. È meglio limitare l'interazione del Pembroke Veshcorgi con piccoli animali domestici come criceti, ratti domestici, scoiattoli, cincillà e altri roditori. Possono stabilire un contatto con i gatti. Uno dei grandi vantaggi della razza Pembroke Veshcorgi è che questa razza non richiede alcuna esperienza nel possedere cani da parte del suo proprietario. Alcune razze di cani, sono più facili da allevare e addestrare, mentre altre sono più indipendenti e persino assertive e richiedono un proprietario esperto. La razza Pembroke Veshcorgi è perfetta per i proprietari di cani inesperti o anche per coloro, che prendono un cane per la prima volta. Inoltre, il Pembroke Veshcorgi è semplicemente perfetto per essere tenuto in un appartamento. Il Pembroke Veshcorgi è una delle poche razze di cani, che tollera la solitudine con relativa calma, motivo per cui il Pembroke Veshcorgi può essere lasciato solo per brevi periodi di tempo, ad esempio mentre sei a lavoro o in visita. La qualità e la quantità della lana, consentono al Pembroke Veshcorgi di tollerare comodamente il freddo leggero e il caldo a breve termine, ma temperature molto basse, o alte non sono più sicure per l'animale a quattro zampe. L'esercizio attivo dovrebbe essere evitato durante la stagione calda. Apprendimento e formazione. Tutti i cani possono essere addestrati e addestrati, ma alcune razze ricordano e seguono i comandi più velocemente e più volentieri di altre razze. Razze diverse richiedono approcci diversi all'addestramento e all'addestramento. Alcune razze possono sembrare difficili da addestrare o addirittura stupide, ma nella maggior parte dei casi, la scarsa addestrabilità di una razza di cane, è dovuta alla natura testarda o indipendente della razza o dell'individuo. Nel libro Canine Intelligence, pubblicato nel 1994, e scritto dal professore di psicologia dell'Università della British Columbia Stanley Corrine, il Pembroke Veshcorgi è classificato 11 su 80 per capacità di apprendimento. A questo proposito, la razza si trova accanto a razze come il Rottweiler, il Bovaro australiano, lo Schnauzernano, lo Springer Spaniel inglese, lo Stiperche e lo Spitz tedesco. Nel libro del professor Stanley Corrine, il Pembroke Veshcorgi si trova nel gruppo Cani con eccellenti capacità di apprendimento. Padroneggiare un nuovo comando da 5 a 15 ripetizioni. Esegui i comandi per la prima volta l'85% delle volte o più. Tendenza ad abbaiare. Le razze differiscono tra l'altro per il livello di rumore, o, più precisamente, per la frequenza con cui abbaiano. Alcune razze possono abbaiare costantemente senza fermarsi, e non si stancano mai di abbaiare ad ogni cane estraneo o altrui che passa davanti a casa tua o da solo, altre razze abbaiano solo per lavoro, quando secondo loro è necessario, ed altre ancora possono solo dare una voce in casi eccezionali. Il Pembroke Veshcorgi è molto incline ad abbaiare senza motivo. Ma questi cani non si distinguono particolarmente per la loro voglia di masticare. Il desiderio di masticare e assaggiare tutto è comune ai cuccioli di tutte le razze, ma da adulti le diverse razze hanno diversi gradi di tendenza ad esplorare il mondo con l'aiuto dei denti. Il Pembroke Veshcorgi non è incline a tali scherzi. Livello di attività ed energia. In base al livello di carica e di attività, le razze possono anche essere suddivise inattive e tranquille o addirittura pigre. Un cane attivo richiederà passeggiate costanti, addestramento e frequenti stimoli mentali da parte tua, mentre i cani calmi e meno energici si accontenteranno di brevi passeggiate per casa, e condivideranno felicemente il tuo desiderio di sdraiarti sul divano di casa. Questa caratteristica dovrebbe essere presa in considerazione quando si sceglie un animale domestico, poiché i bisogni non realizzati di un animale attivo verranno realizzati a casa su cose e oggetti della tua casa. La quantità di energia nel cane determina con quale desiderio e per quanto tempo il cane giocherà con te, o con tuo figlio sotto la tua supervisione. Pembroke Veshcorgi questo è un cane molto allegro e attivo. Amano giocare e chiedono la continuazione se il proprietario decide di terminare il gioco. Mantengono ottimi rapporti con tutti i membri della famiglia, senza mostrare chiaramente la loro preferenza. Allo stesso tempo, mantengono le distanze da coloro che non vogliono accettarli. Sanno esattamente quando avvicinarsi e cocolarsi, quando è meglio non essere visti, quando essere capricciosi e quando è richiesta loro piena dedizione. Inoltre, molte razze hanno un desiderio innato di inseguire oggetti e animali in movimento, il grado di questo desiderio può variare da razza a razza. Se questo istinto innato è molto sviluppato nel cane, è necessario monitorare attentamente l'animale mentre cammina e tenerlo al guinzaglio, poiché qualsiasi oggetto in movimento, può provocare l'inseguimento del cane, anche se si tratta di un'auto, che può danneggiare l'animale, in questi momenti il cane può disobbedire al richiamo del proprietario e rivolgere tutta la vostra attenzione al bersaglio in movimento. Inoltre, tali razze rappresentano un ulteriore pericolo per i piccoli animali domestici e gli uccelli. È importante socializzare questa razza con altri animali, adulti e bambini, quando sono molto piccoli per evitare comportamenti antisociali o aggressivi più avanti nella vita. A causa del loro istinto predatorio, amano inseguire tutto ciò che si muove, quindi è meglio tenerli in aree recintate. L'istinto di pastore, farà sì che alcuni giovani pembroche mordano le caviglie dei loro proprietari, poiché sono stati allevati per allevare animali. Passione per il vagabondaggio e amore per la libertà. Alcune razze hanno la tendenza a percorrere lunghe distanze a quattro zampe, per questo sono state allevate, quindi questi cani, seguendo il loro istinto, non perderanno l'occasione di scappare da te e correre per un paio di chilometri, nonostante le tue chiamate. Cani da slitta, segugi e segugi sono principalmente inclini a tali passeggiate. Pembroche e Veshcorgi, di regola, non ha l'abitudine di scappare dal suo proprietario. Tendenza a sbavare. La quantità di saliva prodotta dipende dalle caratteristiche della razza. Alcune razze producono così tanta saliva da lasciare segni sul tappeto, sul divano, sul pavimento e su di te, anche altre razze producono saliva, ma in quantità molto minori. Fortunatamente, il Pembroche e Veshcorgi produce pochissima saliva, ma la quantità di lana lasciata dal Pembroche e Veshcorgi è molto grande. La quantità di peli di cane nella tua casa, e sui tuoi vestiti dipende molto dalla razza che scegli, alcune razze perdono tutto l'anno, altre solo stagionalmente e altre raramente. Questa caratteristica della razza, può essere importante a seconda di dove intendi tenere il tuo animale domestico, se i tuoi familiari sono allergici alla pelliccia degli animali, e quanto questo è importante per te. Salute generale della razza su una scala a 10 punti. La salute generale dei cani di questa razza, e la possibilità di malattie genetiche in essi possono essere valutate su una scala a 10 punti di 7 punti, cioè si tratta di cani abbastanza sani con un numero minimo di malattie geneticamente predisposte. La durata media della vita di un Pembroche, è compresa tra 12 e 15 anni. I Pembroche Veschcorgi sono acondroplastici, il che significa, che sono una vera razza giocattolo. Pertanto, la loro altezza, e la loro corporatura possono portare a determinate malattie non ereditarie, ma dovrebbero essere presi in considerazione anche i problemi genetici. In genere, Pembroches può soffrire di monorchidismo, malattia di von Willebrand, displasia dell'anca, mielopatia degenerativa e malattie oculari ereditarie come la trofia progressiva della retina. I Pembroche sono anche inclini all'obesità a causa del forte appetito caratteristico delle razze da pastore.